Sindaca, ha creato un diverso clamore la conferenza stampa di ieri nella quale la sua giunta ha annunciato di voler uscire dal sistema dei campi rom. Perché secondo lei? Finalmente metteremo fine a un sistema nel quale la criminalità, la mafia ha proliferato per anni e questo lo ha fatto grazie anche a un ingente dispendio di risorse pubbliche. Consideriamo che i campi rom ci costano nel complesso tra i 25 e i 30 milioni di euro l'anno, quindi risorse sottratte alla collettività per andare a finire all'interno dei campi per non migliorare peraltro le condizioni di vita di quelle persone. Quindi è evidente che il sistema dei campi è un sistema fallimentare, l'Europa ci chiede di uscire, di superarli, noi abbiamo recepito le linee guida europee attraverso una normativa nazionale, abbiamo recepito questa strategia nazionale per il superamento dei campi rom e quindi stiamo procedendo in quella direzione, tra l'altro utilizzando risorse esclusivamente provenienti da fondi comunitari. Questo probabilmente mette un po' paura a chi per anni ha speculato su questo sistema. Come dire, la mangiatoia è finita? Al centro delle polemiche soprattutto il discorso legato ai bonus, alle agevolazioni per i rom per acquistare casa. Anche questi incentivi in realtà provengono da fondi europei, fondi che sono esclusivamente finalizzati al superamento dei campi rom, fondi che peraltro sono stati stanziati anche negli anni precedenti, ma non sono mai stati presi, non sono mai stati goduti, per cui o li prendiamo per utilizzarli in questo modo o li perdiamo. Vogliamo fare un cronoprogramma per quanto riguarda questi interventi, si partirà dai campi della Barbuta e della Monachina. In quanto tempo pensate di chiudere questi due campi attrezzati? Il progetto europeo prevede un superamento di questi due campi in due o tre anni. Abbiamo già peraltro iniziato e concluso un censimento di tutte le persone che vivono nei campi. L'ultimo censimento risale al 96-97. Adesso stiamo avviando dei protocolli con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate per avviare un censimento patrimoniale sulle persone che risiedono nei campi e questo ci consentirà di conoscere perfettamente la situazione patrimoniale e reddituale di chi abita e quindi inizierà a graduare gli interventi concentrandoci ovviamente su chi ne ha davvero bisogno. Venendo ad un'altra emergenza, oggi in sala della Protomoteca si è affrontato il tema del lavoro. Insomma sono tante aziende che scappano dalla capitale. In che modo si può invertire la rotta? Noi oggi in sala della Protomoteca abbiamo lanciato Fabrica Roma, un grande progetto al quale stiamo lavorando da tempo. Abbiamo sottoscritto oggi un protocollo di intesa con i grandi sindacati, i confederali e noi riteniamo che per rilanciare non solo l'occupazione a Roma ma gli investimenti all'interno della capitale serva un grande patto con tutte le forze che vanno dalle forze imprenditoriali alle forze sindacali e soprattutto alle istituzioni. Dobbiamo unirci tutti per il bene di questa città.